Grazie Presidente. Noi del Movimento 5 Stelle ancora una volta di nuovo siamo in questa ola per chiedere al Governo conto di quello che accade al nostro Servizio Sanitario Nazionale, alla sanità pubblica, perché attualmente nel nostro Paese il servizio sanitario è al collasso e il diritto alla salute non è garantito a tutti e a tutte. Eravamo già preoccupati quando la Presidente del Consiglio ci ha detto che non era una questione di risorse i problemi che ci sono in sanità. Siamo terrorizzati dopo aver sentito cosa avete intenzione di fare con la legge di bilancio. Avete detto che il problema delle liste d'attesa si risolve, udite udite, non assumendo personale ma detassando e quindi facendo continuare un personale già stressato, detassazione che attenzione non colpisce neanche tutto il personale e dando risorse ai privati. Questo non è il nostro modello di sanità, non è così che si rispettano i principi di uguaglianza, equità e universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Noi difendiamo la sanità pubblica e chiediamo oggi al Governo se intende voltarsi dall'altra parte davanti ai problemi oppure a delle soluzioni per salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale e salvaguardare quelle persone che oggi per prenotare una visita o un esame diagnostico aspettano mesi o anni, salvo pagare un privato o andare in intramenia. Grazie. Grazie Onorevole Sportiello. Il Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci, ha facoltà di rispondere. Prego, Signor Ministro. Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare le iniziative che nell'ambito della manovra finanziaria in corso verranno poste in essere per individuare specifiche risorse ai professionisti impegnati nella riduzione dei tempi delle liste d'attesa, al rinnovo dei contratti del comparto sanità, al potenziamento dell'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario. Come ho avuto più volte l'occasione di rappresentare, è noto che reiterarsi nel tempo delle misure di contenimento della spesa di personale, soprattutto dovute ai vincoli assunzionali, ha determinato una significativa riduzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale. La situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema, anche se dati più recenti mostrano un progressivo aumento del numero del personale. A riguardo all'analisi dei dati disponibili, è emerso che le difficoltà di reclutamento dei professionisti, specie medici ed infermieri, sono determinate non soltanto dai vincoli di spese esistenti, ma anche dalla scarsa attrattività del nostro sistema sanitario nazionale. Vi è pertanto la consapevolezza della necessità di agire in maniera strutturale, sia assicurando le necessarie risorse al sistema, sia migliorando l'organizzazione dei servizi, per far sì che il sistema sanitario nazionale torni ad essere maggiormente attrattivo per i giovani. Sin dall'insegnamento di questo Governo sono state adottate diverse misure volte a potenziare gli organici delle strutture, pertanto a migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti. Per contrastare il quadro appena delineato, passo e rassegna le iniziative introdotte nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre ultimo scorso. Il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard si raggiungerà nel prossimo triennio, rappresenta il più alto investimento mai previsto nella sanità pubblica. In merito al rapporto a spesa sanitaria PIL, devo ribadire quanto già più volte sottolineato. Si tratta di un indicatore ambiguo. Quando si parla della necessità di portare la percentuale del finanziamento corrente sopra il 7% del PIL, come è accaduto nel 2020, occorre tenere conto che in quell'anno il PIL nazionale era crollato di oltre 6 punti percentuali. Di contro il disegno di legge di bilancio ha previsto un incremento assolutamente inedito del Fondo Sanitario Nazionale. Nello specifico c'è un incremento di circa 2,4 miliardi delle risorse per i contratti 2022-2024 del personale del comparto della rispettiva area del Servizio Sanitario Nazionale, per valorizzare la specificità medico-veterinaria, quella del personale dirigenziale sanitario anche di nuova istituzione e del personale sanitario del comparto. Sarà previsto l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico, per affrontare la carenza del personale medico e del comparto, per ridurre le liste d'attesa e l'utilizzo di esternalizzazioni. Sono previste inoltre ulteriori misure per il rifinanziamento dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa, estendendo anche per l'anno 2024 la possibilità per le regioni e le province autonome di utilizzare una quota fino allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale, cui concorre lo Stato per circa 520 milioni. In conclusione vi rinnovo l'invito ad una posizione costruttiva. Vi invito ad alzare la voce contro chi ha tagliato il personale dei fondi. Vi invito a studiare i dati pubblici sul sito del Ministero, non solo le analisi per tutte le stagioni di enti privati che cercano notorietà. Vi invito a una seria riflessione sullo scenario, sui dati e su una legge di bilancio che, dopo tanti anni di tagli e silenzi, vuole fare il più possibile per invertire la tendenza. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare l'On. Quartini. Prego, On. Grazie, Presidente. Ministro, mi delude molto, devo dire, nella sua risposta, per diversi motivi. Il più importante di tutti è che di fatto ha detto che l'Italia, dal suo punto di vista, non dovrebbe adeguarsi al livello della spesa media europea e dei grandi Paesi europei, che, le voglio ricordare, arriva fino al 10% del PIL quella spesa, mentre in Italia voi la state portando al 6,4%, cioè sotto il limite di sicurezza per garantire la sanità pubblica. È evidente che volete orientarvi a favorire la sanità privata, volete continuare a devastare il servizio sanitario nazionale. Non è vero che per dieci anni è sempre stata definanziata. Quando c'era il Movimento 5 Stelle al Governo è aumentata la spesa sanitaria in maniera significativa e siamo arrivati al livello della media europea in termini di spesa sanitaria sul PIL. 7,4% sul PIL. Dite che investirete 3 miliardi nella prossima manovra finanziaria. Lei stessa ne aveva chiesti 4, le voglio ricordare. Al netto dell'inflazione non bastano nemmeno per la manutenzione ordinaria del servizio sanitario nazionale. Ma dove volete portarlo questo servizio sanitario nazionale che se non si assume personale non si va assolutamente a risolvere il problema del pronto soccorso, dell'ospedale, del territorio stesso e a maggior ragione delle liste d'attesa? Ministro, la prima volta che sono intervenuto con lei in aula io le avevo suggerito, dato che lei è una persona seria, di scappare da questa maggioranza. Due suoi capi gabinetto l'hanno fatto, hanno dato retta a me qualcosa evidentemente è successo in questo anno.